salve amici del vaso di pandora l'asso di picche di oggi grande come un poker d'assi va all'intero partito democratico segretario zingaretti sapete immagino si è dimesso giustamente molti di voi quasi tutti voi avranno altri pensieri se ne strafregheranno perché hanno paura so di perdere il lavoro o hanno l'attività a rischio chiusura e quindi delle sorti della linea politica del pd o del destino personale di zingaretti vi interessa più o meno zero magari manco l'avete votato però siccome il governo quello che sforna i dpcm e che dovrà varare la prossima manovra economica si dà il caso che ci sia anche il pd e siccome di riffo di raffa i partiti sono quella cosa che serve a far digerire a noi cittadini decisioni vincolate dall'europa e dai mercati allora direi che è importantino forse capirci qualcosa in più allora sediamo per vere le dimissioni di zingaretti cioè se lasciasse sul serio non per poi venire riconfermato tanto di cappello perché in italia non si dimette mai nessuno ma le motivazioni con cui ha rassegnato le dimissioni sono la cartina di tornasole di quanto il principale partito non diremo di sinistra ma che sta a sinistra è una poltiglia senza senso mettiamo da parte l'indignazione di zingaretti ma anche comprensibile diciamo che lui dice i miei compagni di partito pensano solo alle poltrone ma questo vale per tutti i partiti ma proprio tutti i cinque stelle compresi anche più sfigato e minuscolo dei partitini pensa alle poltrone chi è che fa politica non pensando alle poltrone il particolare invece che che fa girare le eliche è quando zingaretti parla di mancanza di visione mancanza di visione a parte che se il partito di cui è stato segretario fino a ieri manca di visione la responsabilità sarà anzitutto sua ma andando più in profondità e più indietro domanda ma quale visione ha mai avuto il pd il pd nasce nel 2007 segretario walter veltroni con l'idea di imitare il modello dell'omonimo partito americano il partito democratico tanto che lo slogan era nemmeno più in italiano chiaramente in inglese i care ma i care cioè mi occupo di cosa di grazia hanno sempre riempito il vuoto pneumatico di idee forti con formulette senza spirito senza vita che sono ne prendiamo tre le principali quelle più in voga quelle più citate riformista progressista ambientalista allora riformista ma riformista de che cioè quali riforme ma ovviamente quelle che spianano il terreno a meno diritti per i lavoratori perché ricordo che la precarietà lavorativa l'aveva già introdotta dal punto di vista legislativo già dieci anni prima un certo tiziano treu ministro del lavoro di centro sinistra poi nel pd allora la margherita perché il pd ricordo nasce dalla fusione della margherita cioè sinistra democristiana e dei ds ex pds ex pc secondo progressista è stato progresso aver votato nel 2012 a favore dell'introduzione del pareggio di bilancio in costituzione che non significa essere bravi amministratori del bilancio pubblico ma semplicemente vietare addirittura nella legge suprema diciamo nella carta che lo stato possa fare lo stato in economia cioè spendere quando ce n'è bisogno e dio solo sa se ne ce se ce ne sarebbe bisogno adesso terzo ambientalista dico è ambientalismo dire di sì a scatola chiusa a tutte le grandi cosiddette grandi opere che generano poi quel debito pubblico che si vorrebbe scongiurare a priori no in costituzione questo sì inutile per però o meglio utile solo la compagnia di giro dei pescecani privati che sono liberisti ma non quando ci sono da distribuire soldi pubblici nostri dei contribuenti quindi la visione del pd è sempre stata quella di legittimare a sinistra l'adesione al pensiero unico liberale o liberista che dir si voglia o per essere più precisi la variante ordo liberale cioè quella tedesca del liberalismo che alberga e domina a bruxelles e francoforte naturalmente il pd lo ha fatto con tutto quel bla 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 snubbato sulla sensibilità sociale sui diritti e non può mancare chiaramente l'antifascismo la facciata di antifascismo i vecchi comunisti e socialisti poveracci saranno ormai stufi di rigirarsi nella tomba quindi il pd democratico nel senso di popolare cioè del popolo dei molti da difendere contro l'interesse ma quale liberale o di mercato feudale dei pochi privilegiati non ha mai avuto niente perciò cari pd fateci il piacere se non vi va più bene zingaretti che in effetti era tipo l'uomo invisibile riprendetevi renzi oppure anche veltroni l'usato sicuro che soldi dall'arabia saudita parte stringi stringi non è che poi no abbia tutte queste grandi differenze e correnzi a livello di di sostanza possiamo perdere l'apparenza l'esteriorità le formulette la sostanza il pd è sempre stato fin dalla nascita il partito del nulla dal punto di vista ideologico e culturale un partito tecnicamente nichilista ma siccome anche fra voi pd qualcuno si salva specie nei cosiddetti territori in basso e questo qualcuno si indigna e si può capire però io a chi si indigna e si indigna soltanto consiglio questo libro di un certo ingrao ve lo ricordate il compagno ingrao eccolo qua si intitola indignarsi non basta non basta